Ciao Carlo, buonasera. Buonasera. Come mai sei qui? Stai vedendo il film di tuo cognato? Beh, vengo a tifare per lui, siccome è una tradizione ormai, quindi... E anche per Emanuele Propizio, ma anche per tutti gli altri. Emanuele Propizio ha lavorato con me in Grande Grosse Verdone, quindi... Questo è il venticinquesimo film di Cristian, li hai visti tutti? L'ho visti tutti o quasi tutti, sì. E qual è il tuo preferito? Eh, è difficile dirlo, è difficile. Il mio preferito, secondo me... Beh, Uomini Uomini aveva qualcosa di divertente, sicuramente. Ti rivedremo mai sul Grande Schermo con Cristian, come da chi tempi? Penso di sì, adesso bisogna capire quando il nostro produttore ci dà il disco verde, perché non credo che voglia perdere Cristian per Natale, non vuole prendere me fuori il Natale. Ma comunque, io penso che entro due, tre anni lo faremo, assolutamente, assolutamente. Se no poi dopo veramente, eh, comincia a diventare un po' dura tutta la storia. Abbiamo visto il tuo duetto con Tony Servillo al Festival, c'è qualche altro personaggio, ne so, attore hollywoodiano, italiano, con cui tu vorresti duettare o lavorare? Beh, no, mi piacerebbe ascoltare, mi piacerebbe ascoltare molto Tom Hanks, che è l'attore che più amo, perché è bravo sia in parti drammatiche che in parti brillanti, è un attore completo, mi piace, mi piace molto. E con Servillo c'è qualcosa in cantiere? No, con Servillo no, una grande stretta di mano, un grande attestato di stima, però è un amico e penso, chi lo sa, sai, puoi mai dire mai. Ci dai qualche anticipazione sul tuo prossimo film? Eh, no, non te la posso dare perché devo arrivare ancora a scrivere le ultime pagine, però è un film, ci sarà Laura Chiatty, ci saranno altri tre attori importanti, e sarà un film dove Laura indubbiamente avrà una parte molto importante, però ci sarà anche tutto un contorno che girerà intorno al personaggio mio e suo. Ci farà divertire, ridere, piangere questo film? Spero che vi faccia molto divertire. A Starlit ed MTV, un bacione, caldo, da Carlo Verdone, caldo così. Grazie. 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 Grazie.